Non c'è figura più affascinante a mio parere dell'avvocato che si occupa di diritto di famiglia, definito matrimonialista, divorzista, familiarista, si tratta fondamentalmente di termini che dicono la stessa cosa. Quando io scelsi di fare questo percorso lo feci con grande paura all'inizio perché sapevo che entrare nelle famiglie in crisi significa avere anche una grande capacità di ascolto. Il ruolo dell'avvocato matrimonialista è un ruolo centrale nella società perché si tratta di una figura di riferimento per le persone che stanno per finire un percorso familiare o matrimoniale. Ci vuole quindi la capacità da parte dell'avvocato matrimonialista di entrare con grande saggezza, a volte anche con un certo timore in determinate procedure perché sappiate che purtroppo nel nostro paese proprio nelle fasi più difficili delle separazioni o comunque quando finiscono certi legami anche di coppie di fatto non unite in matrimonio ci possono essere fatti di assoluta gravità. La violenza in famiglia è un'emergenza nazionale. Quando un avvocato entra in queste vicende lo deve fare con grande prudenza e saggezza come dicevo prima perché saper mediare soprattutto nella fase iniziale del conflitto è di fondamentale importanza per scongiurare fatti criminali come femminicidi, violenze in famiglia di ogni tipo, stalking e addirittura il revenge porn, questa nuova fattispecie criminosa introdotta dal codice rosso. Perché parliamoci chiaro? Non si può ragionare a compartimenti stagni. Quando entri in queste vicende soprattutto altamente confittuali con figli contesi dove ci sono state magari infereltà coniugali o varie violenze. L'avvocato deve innanzitutto sensibilizzare il proprio assistito a mantenere la calma a non provocare o non raccogliere provocazioni e anche l'avvocato stesso deve cercare di trovare un canale di comunicazione con l'avvocato avversario perché può succedere di tutto. Le procedure di cui si occupa l'avvocato matrimonarista non fanno dormire la notte perché sono procedure violente, perché vedete quando si spacca una famiglia, quando ci sono figli da contendersi, case coniugali, assegni, diventa molto difficile perché indubbiamente bisogna trovare una soluzione. In questa materia il matrimonarista sa che non esiste una vittoria o una sconfitta, ma esiste la ricerca di una soluzione. Per cui l'autorevolezza dell'avvocato matrimonarista è anche quella dello studio, è anche quella dell'aggiornamento, perché si è autorevoli quando si è preparati, ma si è autorevoli quando non si consente al proprio assistito di decidere la strategia, la strategia la decide l'avvocato, prendere o lasciare, l'ho detto tante volte nei miei libri, dai perplessi sposi a vi dichiaro divorziati, c'eravamo tanto armati, la guerra dei rossi, ho scritto tanto sul ruolo centrale dell'avvocato matrimonarista, divorzista, familiarista nella società e nel processo. Uno studio legale deve essere quindi organizzato, deve avere dei consulenti di primissimo livello, perché spesso noi ci avvaliamo di consulenti psicologi, abbiamo i nostri investigatori privati, i medici legali. Uno studio deve essere un'azienda, deve essere organizzato e soprattutto la immediatezza, la capacità di essere veloci nella scelta delle strategie, poi nella redazione degli atti, nella presentazione di stanze, perché a volte un giorno in più o un giorno in meno possono fare la differenza. Ecco chi è il matrimonarista. È un professionista completo, un professionista che è un po' psicologo, è un po' un amico, un po' la spalla su cui piangere, ma deve essere anche un avvocato capace di non calarsi nella rissa, mantenere quella giusta freddezza, il giusto distacco, pur sentendo addosso la responsabilità di gestire la vita di un intero nucleo familiare. Sicuramente un avvocato matrimonarista è un grande avvocato matrimonarista quando tiene lontani i bambini dalle contese coniugali o comunque familiari. Io diffido di tutti quegli avvocati che utilizzano i figli, magari anche inconsapevolmente, per ottenere la vendetta del proprio assistito o assistita. Attenzione, le questioni coniugali non vanno mescolate con le questioni genitoriali. Si può essere pessimi padi o pessimi madi, ma ottimi genitori e viceversa. Per cui è inutile farla pagare all'altro usando i figli come un'arma di ricatto, di vendetta o di rivendicazione. In questo caso l'avvocato matrimonarista ha un ruolo sociale importante, ancora più importante del giudice, ancora più importante del tribunale. Noi siamo il primo filtro della giustizia, siamo coloro i quali devono informare i clienti ma anche formare le coscienze. Per cui non si può vincere una causa semplicemente perché hai tolto un figlio o un genitore o hai confezionato delle accuse del tutto infondate e gratuite. Questo è il ruolo importante ed ecco perché la gente deve sempre optare quando si tratta di dare la propria vita in mano a un professionista per professionisti che siano all'altezza del compito, sia da puista tecnico che da puista umano, etico e deontologico.